Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, beh, cioè non dico niente, e oggi faccio la reaction, la mia intervista a mio cugino Fortes Angelo. In pratica ha fatto il suo secondo canale, tipo io, Max Real, ovvero Ernoxx, Ernoxx, ok? Oggi faremo la reaction a Ernoxx, ok ragazzi? Benissimo, la mia intervista, vediamo che cosa dice. Vediamo. Ciao. Ok. Che strana faccia che c'ha qua. Guardate. Ok, ci siamo? Ok, ok. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, in questo secondo canale vi parlano un po' di me. Iniziamo. Io è un intervista. Sì. Sì. Anche io faccio finta che ci sono pure io in questa intervista. Pure io. Mi chiamo David e cognome è romano. Sembriamo fratelli romano e romano, ma in realtà noi siamo cugini. Dieci? Dieci? Ok. Lui ha dieci anni, io ho dodici anni. Ok, adesso tocca a me. Colore preferito. Beh, il mio colore preferito è ovviamente il giallo, bellissimo il giallo, e il rosso, ma anche gli altri colori. In realtà tutti, tutti mi piacciono, tutti i colori. Blu, verde, rosso, giallo. Tranne il nero, il viola, il marrone e il grigio. Quelli non mi piacciono. Mamma, stai senta che c'è tanto per me. Vabbè, pure mia mamma. Ok. Sei incavolato o dolce? Beh, io... Io sono dolce, però se mi incavolo, mi incavolo solo con l'impostore. Sono simpatico. Sei simpatico o non simpatico? Sono simpatico. Tranne l'impostore. L'impostore è antipatico. Sono simpatico. Sei bravo a scuola o stile? Stupido. Stupido. Come stupido? Vabbè, io sono bravo a scuola, però dipende. Cioè, dipende. C'è qualche volta che mi trovo in mezzo a mare e non riesco a non usare. C'è qualche volta, però c'ette volte capisco e ce la faccio, ci riesco. Però c'ette volte mi trovo in mezzo a mare solo. Bravo, bravo. Neanche io ci capisco tanto, però... Se mi applico e mi metto bene in quella cosa, dico... Ci devo riuscire e ci riesco. Perché all'inizio sempre mi trovo a mare. Mare profondo. Ha detto solo alle divisioni. Anche io. Alle divisioni sono in mezzo all'oceano atlantico. Pure io. Non capisco niente delle divisioni. Neanche uno diviso uno, capisco. Nessuno. Cioè, la maggior parte di noi capisce uno diviso uno. Quindi, ma neanche lui. Nessuno. Neanche sua mamma. Nessuno. Proprio tutti. Niente. Per le divisioni sono... Siamo a mezzo all'oceano atlantico. Ragazzi, voi sapete che cos'è l'oceano atlantico? È l'oceano grande, grande. Che in pratica è profondissimo. È in pratica... È... È... L'acqua è ghiacciata. Proprio fredda, fredda, fredda. Beh. Questo... Oceano atlantico è conosciuto pure in un naufragio di una nave. Sapete di quello che sto parlando. Esatto. Del Titanic. Ragazzi, voi sapete che cos'è il Titanic? Il Titanic era una nave di tanto tempo fa che in pratica è affondata per un iceberg. Gli iceberg sono quei pezzi di ghiaccio grandi e forti che si... In pratica si formano per l'acqua gelita che c'è nel mare. E questa nave ha più... Ah, da 110 anni che è affondata. Poi, prima... Passiamo avanti. Pura mia mamma non ci capisce più delle divisioni. Sì. Ecco perché dico nelle divisioni sono in mezzo all'oceano atlantico. Per questo motivo. Quindi ragazzi... Chi è il Dark Angelo veramente? Veramente... Secondo me il Dark Angelo, quello vero, è quello cattivo. Perché ragazzi, noi abbiamo conosciuto il Dark Angelo tanto tempo fa, ma stiamo parlando proprio già tanto tempo. Quando abbiamo conosciuto l'impostore, un po' di giorni dopo, è arrivato questo oscuro personaggio. Fortess. Fortess. Sì, ho fatto fare un'intervista all'impostore. E poi ho fatto raccontare la storia dell'impostore. Convinci il Dark Angelo cattivo, quello cattivo, a... In pratica, convincelo a fare... A raccontare la sua storia. O mai più sappiamo tutti la storia dell'impostore che era un personaggio di Among Us e poi è diventato cattivo. L'abbiamo capito la storia dell'impostore. Però adesso vogliamo sapere la vera storia di Dark Angelo cattivo. Dark Angelo buono mi ha detto che il fratello dell'impostore, Dark Angelo cattivo. Dark Angelo, secondo me c'è qualcosa sotto. Perché Dark Angelo cattivo è quello buono, sono fratelli. Secondo me c'è qualcosa sotto. Non so. Sì, te l'ho lasciato. Lascio, subito. Sì, l'ho messo. Una domanda. A me non stoppa. A me non fai una cosa, te lo stoppi e poi parli. Comunque una domanda ce l'ho io. Buoni o cattivi? Ah, o mai più la mia intro la conoscete a memoria. La mia intro è... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi... Dipende le cose che facciamo. Non la cambierò mai. Pure quando avrò tipo 53 anni. Sempre sarà. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi... Ti piace Dragon Ball? A me mi piace Dragon Ball. Di più mi è piaciuto Dragon Ball Zero. Perché mi è piaciuto tanto. Sì, Dragon Ball mi piace. Però mi piace Dragon Ball GT. Super Saiyan di quarto livello. Che stiamo parlando. Lo scontro di Freezer. Goku Super Saiyan. Come la mia. Ha distrutto Freezer. Incredibile. Grazie bellissimo. Bene. Che trasformazione vorresti diventare? Io vorrei diventare Super Saiyan 4. Anch'io Super Saiyan 4. Top bello. Con quei capelli lunghi lunghi che ti volano a vento. Bellissimo. E poi combattere contro i cattivi. In questo caso combattere contro Dark Angelo, Ninja, Impostor Max e l'impostore. Distruggerli. Bellissimo. Un sogno. Distruggere l'impostore con un Super Saiyan. Saiyan 4. Bene. Quattro. L'intervista finisce qui. Saludate. Ciao. Ok. In pratica. Ragazzi. L'intervista è terminata. Però. Volevo fare questa reaction. Per farvi vedere che c'era questo. Suo secondo canale. Erno. Ragazzi. Attiviamo le notifiche. In pratica ragazzi. Vi spiego come iscrivervi ai canali. Ok. Facciamo tutto quanto per bene. Ok. No. Ok. Non sto cancellando il canale. Ok ragazzi. Vi faccio vedere come fare. Ok. Oggi ragazzi. Ok ragazzi. Prima cosa. Vedete i nostri canali? Cliccate su iscriviti. Poi. Dopo che hai cliccato su iscriviti. Devi mettere la campanella. Tutte le notifiche. Poi vai. Nei nostri video. In questo caso. L'intervista di Fortes. Poi che devi fare? Aspetta che il mio telefono carica. Cioè. No. Il mio. Il tuo. Quello di voi ragazzi. Cliccate sul mi piace. E ragazzi. E poi. Avete fatto tutto. Così anche negli altri video. Tutti i video. Anche nel video di minecraft. Tutti i video ragazzi. Oggi ragazzi. Faremo. E ragazzi. Così via. E se tanto vi va. Che vi piace. Lasciate qualche commento. Vi faccio vedere. Come si lasciano i commenti. Facciamo qua. Poi ragazzi. Che dobbiamo fare. Dopo che in pratica. Andiamo qua. Andiamo su commenti. Se ragazzi. Ve li fa scrivere i commenti. Andate qua. E poi scrivete. Quello che volete. In questo caso. Sei. No. Un secondo. Ho sbagliato. Ho sbagliato ragazzi. Il. Mi. Gli ore. Sei il migliore. Ok. E poi. Così voi. Farete la. La. I commenti. Se tanto vi. Volete. Fare. E io. Ho scritto. Sei il migliore. Ragazzi. Questa. Speciale. Diciamo. Questa. Annuncio. Del. Nuovo canale. Di Fortes. Il secondo canale. Termina qui. E. Ciao ragazzi. 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 Grazie a tutti.